ciao ragazzi oggi tutorial tutorial su che cosa su come fare i saponi avete visto in precedenza un po qualche sapone che ho fatto e di tutorial qui sul web c'è stato tantissime quindi sono uno tra tanti tanti che comunque sia fanno fanno i saponi in casa magari qualcuno di voi già li fa quindi comunque sia e niente questo tutorial volevo farlo perché volevo chiarire qualche 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 cosa su come fare i saponi poi vedremo come farli io tra le tante ricette che ho fatto e ho valutato visto anche il toria mi sono reso conto di una cosa che chi è una cosa in banche importante almeno per me non so per voi e partiamo dalla base il sapone fatto in casa si fa con l'olio l'olio e la soda sono i due componenti principali no e lo sappiamo l'olio possibilmente extravergine di oliva un buon olio insomma e dopodiché già da questo si può fare il sapone già solo con l'olio extravergine di oliva quindi come facevano i nostri nonni i saponi antichi però c'è un particolare se voi mettete l'olio extravergine di oliva e basta e poi vabbè la soda poi vi dirò comunque sia le quantità come farlo e come potete quindi poi profumarlo evidentemente puoi mettere delle profumazioni magari anche fatte da voi oltre che gli oli essenziali che si possono acquistare ma se voi utilizzate solo l'olio extravergine di oliva il sapone sgrasserà sarà buono per carità però non farà schiuma non farà schiuma io sinceramente a me non piace mettere solo l'olio extravergine di oliva perché c'è un'altra componente unita all'olio extravergine di oliva che andrebbe messa per fare il sapone una buonissima schiuma morbida che si può utilizzare ovviamente sia per le mani e sia per il viso e qual è l'olio di cocco se voi usate insieme all'olio extravergine di oliva all'olio di cocco c'è chi mette anche l'olio di mandorle dolci potete mettere altri tipi di tipologie di olio li ho provati tutti però il migliore per me rimane olio di cocco quindi due soli ingredienti perfetti pochi buoni olio evo e olio di cocco in proporzioni ovviamente diverse perché va messo più olio extravergine di oliva e un po' di olio di cocco così vi garantirà non soltanto un sapone morbido ma che farà che fa schiuma quindi finalmente fa una bella schiuma morbida e vi garantirà quel senso di pulito non so voi ma io per sentirmi pulito deve per forza fare un po' di schiuma il sapone altrimenti mi sento sempre comunque non lo so non mi dà quel senso ecco di pulizia non so voi poi c'è chi preferisce magari senza schiuma comunque sia tanto è è un tensiativo naturale non è nulla di artificioso di artificiale perché i saponi e poi si può mettere il miele eventualmente ma quelli sono sempre un di più la base io vi sto parlando delle basi quindi la base è questa ho finalmente fatto bilanciato una ricetta perfetta secondo me è proprio il perfetto sapone come dovrebbe essere con una base anche schiumosa molto morbida che si può utilizzare per viso per mani e viso ovviamente e le proporzioni sono queste 300 parliamo di vi verranno su per giù circa 6 saponette ecco io ho fatto il doppio perché mi servivano se è più alta e quindi la base sono 300 grammi di olio di oliva 150 grammi di olio di cocco esattamente la metà esattamente la metà 64 grammi di soda perché la soda ci vuole ecco l'unica attenzione cortezza dovete usarla con la soda ovviamente essendo un prodotto che è irritante dovete irritante solo all'inizio ovviamente perché poi vi dirò ovviamente il sapone poi con la stagionatura poi che avverrà del sapone la soda scomparirà e si dissolverà lentamente pian piano ecco perché i saponi ovviamente una volta fatti non devono essere utilizzati subito ma bisogna aspettare un mese e mezzo circa un mese e mezzo due di stagionatura ma già dopo 60 giorni 50 dopo 50 giorni potete già utilizzarlo e 64 grammi di soda 150 grammi di acqua dove dovrà essere messa soda ovviamente e poi deve avvenire il nastro il famoso nastro cos'è il nastro quando tutta questa miscela si inizia ad addensarsi a diventare densa e dovete lì fare attenzione con la temperatura ecco perché dovete acquistare un termometro se già lo avete per alimenti da mettere proprio dentro per misurare la temperatura quando la soda verrà messa nell'acqua ovviamente raggiunge una temperatura molto elevata 90 85 gradi dovrà scendere a circa 45 40 gradi perché dovrà essere a temperatura quanto più simile agli oli gli oli verranno messi insieme e dovranno a temperatura ambiente più o meno quando le temperature si equivarranno più o meno sui 40 45 gradi in entrambe le soluzioni sia per l'olio da una parte per tutte le sostanze oleose sia per la soda nell'acqua dall'altra allora potrà essere miscelato ovvero l'acqua con la soda dentro che intanto si sarà sciolta ovviamente un'operazione che verrà fatta possibilmente fuori perché altrimenti dovete munirvi di guanti innanzitutto guanti lattici sapete è una buona mascherina soprattutto per gli occhi perché la quando mettete la soda quando mettete la soda nell'acqua non il contrario la soda nell'acqua e avverrà una ma verrà quindi una una come si dice una reazione di conseguenza questa reazione che esalerà un po di fumi dovete meglio mettervi fuori non è nulla di chissà cosa però dovete stare un po attenti giusto per non ecco farvi bruciarvi o comunque sia ecco cosa cosa dire ecco quindi quando verrà la stessa più o meno temperatura allora metterete l'acqua sciolta con la soda dentro gli oli non il contrasto e dovete girare c'è chi gira direttamente con un cucchiaio e magari legno possibilmente comunque di e quei cucchiai che vendono in oddio mi sta venendo adesso il in silicone ecco che in silicone oppure con un cucchiaio di legno miscelare poi se avete un mini pin e in 23 minuti raggiungerete subito la densità vedete che quando si addensi si addenserà sarà la miscela sarà già pronta e allora solo in quel momento una volta che sarà addensata un po diventerà come una maionese metterete dentro cosa volete ovvero oli essenziali e tinture madri io per esempio ho messo nei miei oli essenziali di lavanda parecchio parecchio perché perché altrimenti già il sapone tende a perdere il profumo col tempo e quindi ne serve parecchio diciamo che mettete una poi vi faccio vedere quanto metterne magari e dopo di che ho messo tintura madre di elicriso anche lì due belle una diciamo che dal boccetto preso due contagocce sani e li ho messi dentro perché perché ha una proprietà per la pelle importante antirughe elasticizzante nutriente comunque sia sapete le proprietà per la proprietà dell'elicriso vi riporto poi al primo video che ho che pubblica e su questo canale potete andarlo a vedere dopo di che ho messo la famosa tintura madre della regina isabella lungheria che poi in realtà cos'è è la miscela di tre che usava si diceva che usava la la regina lungheria per visse anche a lungo grazie si dice si narra diciamo la leggenda vuole che visse a lungo proprio grazie a questa anche tintura madre che usava sia per uso interno che per uso esterno e sarebbe la sarebbero tre alcolatori messi insieme le alcolaturi sono comunque diciamo tinture madre parliamo in maniera più semplice più o meno sono tintura madre di lavanda di rosmarino e di menta possibilmente menta puleggio però se avete quella anche qualsiasi tipo di menta anche menta arancio unite insieme e quindi da garantisce anche un buon profumo oltre a una ovviamente una soluzione che è antisettica e calmante e fa benissimo miscelata a questa e quindi ho messo anche questa poi volendo ne potete fare uno con l'olio di alloro il famoso sapone di aleppo ma poi ne parleremo l'olio di alloro potete farlo in casa ci vuole un po di tempo ma potete fare con le bacche ovviamente si fa senza acquistarlo perché è costoso quindi ma quello ne parliamo magari un'altra volta per adesso vi faccio vedere quindi tutti gli ingredienti e procederemo insieme allora ragazzi qui c'è tutto il necessario vi faccio vedere subito le cose che ci servono allora qui ho pesato l'acqua e ho messo l'acqua che poi nella quale poi dovremmo versare la soda caustica e 150 ml vi ricordate quindi dobbiamo mettere 150 ml di acqua in un vasetto di vetro di vetro non di plastica mi raccomando perché la reazione potrebbe insomma potrebbe distruggere la plastica quindi è meglio comunque farla in un vaso in un vasetto di vetro qui ho messo la soda che poi verserò qui dentro dopodiché munitevi ovviamente di un misurino perché con questo misurino dovrete poi mettere 300 ml di olio extravergine di oliva che io ho versato qua dentro già mentre l'olio di cocco come vedete ho comprato questi lo vendono dappertutto quindi voglio dire lo trovate facilmente lo sto facendo sciogliere a bagnomaria nell'acqua bollente perché l'olio di cocco sapete e si addensa subito col freddo quindi non è come l'olio extravergine di oliva quindi assolutamente lo devo prima sciogliere poi pesare 150 ml di olio di cocco e metterli nei 300 ml di olio d'oliva che abbiamo messo qui precedentemente munitevi poi ovviamente per fare lo stampo no per lo stampo io uso questo vecchio stampo in silicone sono i migliori per fare i plum cake ok è un vecchio stampo ovviamente tutte queste cose le usate solo per i saponi non per la roba da mangiare e poi occhiali da poter proteggere gli occhi e guanti in lattice e questa spatola questa intendevo appunto in silicone con la quale poi girerete la soluzione quando è miscelata mentre con un cucchiaio normale d'acciaio girerete ben bene e la soda nell'acqua finché non la temperatura non scenderà dai 90 gradi fino a circa 40 45 gradi però di modo che la temperatura degli oli e che ovviamente sono saranno a temperatura ambiente se volete potete anche scaldarli un po ma sinceramente non c'è bisogno basta che la temperatura non sia talmente differente 80 per esempio 15 perché sarebbe assurdo e uscirebbe male insomma di conseguenza aspettate che la soluzione caustica scenda a una temperatura di circa anche 50 60 gradi non per forza 40 45 e gli oli siano o tiepidi comunque sia non siano freddi proprio da ecco da dire che non ci sia ecco troppa differenza termica l'importante è che non ci sia appunto troppa differenza dopodiché metteremo i nostri oli essenziali tinture madri quello che che volete qui io questa volta ho anche mi ero conservato un olio dito concentrato di bacchi di alloro che vuole usare insieme la tintura madri a loro per fare il sapone di aleppo ma alla fine forse metterò un po tutto dentro sia l'olio dito di bacchi di alloro e che la lavanda la tintura di elicriso e la tintura madre della regina isabella lungheria comunque adesso vediamo come si può essere ovviamente un mini piner se ce l'avete altrimenti come facevano gli antichi girate a mano è ovviamente ci vuole più tempo però si farà comunque il nastro è ovviamente un termometro per misurare poi la temperatura della soda ok mettiamo tutto qua dentro perfetto adesso giriamo un po con con la spatola questa in modo da amalgamare ben bene gli oli perché gli oli vanno miscelati bene ok abbiamo fatto anche questo perfetto ok adesso andiamo a mettere la soda nell'acqua allora adesso mettiamo la soda quindi 64 grammi vi ricordate 64 grammi in 150 ml di acqua ok così perfetto e giriamo il tutto vedete che adesso la soluzione arriverà a 95 gradi circa quando diventerà limpida l'acqua che i gradi scenderanno a 70 più o meno 70 60 voglio dire vuol dire che la pozione si è già pronta ok ragazzi guardate la soluzione è arrivata a 65 gradi quasi quindi già adesso si potrebbe sta scendendo sempre di più la temperatura quindi praticamente 64 7 si può iniziare anche a miscelare adesso senza problemi è solo che dovete fare attenzione quando girate poi diventa subito solido il sapone e quindi dovete essere veloci a metterlo nello stampo e non so se vi darà poi il tempo per mettere poi gli oli essenziali altrimenti si potrebbe solidificare troppo velocemente e non dandovi il tempo appunto di mettere i profumi e gli oli essenziali che dovete e sta scendendo a 64 la soluzione si sta facendo sempre un po più limpida diciamo non sarà mai come l'acqua limpida però voglio dire 63 sta scendendo sempre più io dico che non posso anche versarla e ovviamente quando la temperatura è così elevata e gli oli sono un po più freddi e potete già il nastro si raggiunge anche solo girandolo con senza mini pinner senza l'uso del mini pinner il mini pinner serve solo quando il nastro non si riesce a formare quindi quando le temperature paradossalmente sono un po più vicine almeno questo che ho notato io ecco questo l'ho notato io quindi adesso vediamo se il nastro si forma semplicemente girandolo con la spatola di silicone oppure deve essere girato con mini pinner vedete la consistenza proprio tipo maionese abbastanza densa è questa consistenza deve arrivare dopodiché adesso siete pronti adesso metto un attimo qui devo appoggiare qui a mettere le vostre i vostri poli essenziali allora mettiamo io metto la lavanda tutta perché tanto era poco con lì lavanda non ce n'era molto e lì crisi o tintura madre via di crisi o tintura madre di crisi mettiamo un bel po perché questa non vi preoccupate mettete quanto ne volete perché questa serve per ovviamente il viso questa tintura madre della regina isabella lungheria ne mettiamo uno e due pipette che dà quel profumo anche che deve fatto questo reinserite il tutto e iniziate di nuovo con mini pinner grazie a tutti ok basta così allora stacchiamo tutto questo ne venga tutto lasciamo un attimo qui adesso versiamo il tutto nello stampo ovvero qui perfetto pensate così guardate come una crema come una crema la frase è un attimo qui perché qua se ne mette la tutta perfetto, ora livellate, ora questo stampo è ovviamente un po' grande, se trovate degli stampi più piccoli anche in alluminio, però quelli in alluminio vanno rivestiti di carta forno, dovete rivestirli con la carta forno, questi invece se nel silicone non c'è bisogno, si staccherà da sé, vanno rivestiti quelli alluminio anche perché se dovessero poi rilasciare tracce di alluminio è meglio di no, ovviamente, ecco qui, fatto questo, anche se non escono perfetti, non vi preoccupate, voglio dire, tanto sono saponi fatti in casa e il bello è la genuinità, anche questa, perché non siano perfetti, poi su internet vendono anche degli stampi buonissimi, molto molto belli, in silicone per saponi, veramente ce ne sono dei fantastici, belli, a forma di angelo, di stella, cioè qualcosa di spettacolare, se volete potete anche acquistarli, voglio dire, su internet. Ora, questo va adesso, spostiamo tutto, mettiamo qua, affinché adesso va coperto, coperto con carta forno prima, se non l'avete, con un panno, o comunque, con un panno, affinché mettiamo questo che era già dei saponi precedenti, con questo panno strofinaccio, se avete qualsiasi cosa, va comunque coperto per mantenere un po' il calore, in 24 ore, in 24 ore, massimo 48 ore, il sapone è fatto, quindi domani mattina, l'indomani, lo trovate già solidificato, ovviamente, se non bastassero 24 ore, 48 anche, quindi non vi preoccupate se non si solidifica 24 ore, perché magari a volte è troppo, è molto di più liquido, ci vuole di più, se solido invece ci vuole un po' di meno, non vi preoccupate se non è perfetto, è perfetto quello che voglio dire, dopodiché uscirà, domani vedremo appunto il risultato, e come va qui. Allora ragazzi, eccoci qua, l'indomani, adesso solleviamo qui, vediamo come è uscita, scostiamo un po' i bordi, come vedete si toglie subito quando mettete il silicone, in una forma come in silicone, basta un po' fare così, e si stacca dai bordi, perfetto, adesso vediamo se la facciamo qua sopra stesso, dopo la mettiamo là, che profumo ragazzi, mamma mia, un profumo buonissimo, evidentemente ha funzionato, guardate, mmm che profumo, consistenza, mi piace perché è morbida, ancora deve farsi, deve asciugarsi completamente, veramente buona però, perché adesso è meglio tagliare adesso il sapone, che quando è troppo freddo, perché poi quando è troppo duro, si indurisce troppo, poi alla fine ha dei problemi, allora dovete munirvi poi, di una spatola, come questa, ovviamente nella cucina, e potete iniziare a tagliare i saponi morbido, così, ecco qui, questo è il primo, a me non piace farli molto grandi, perché poi quando ci si lava, non si riesce a maneggiare il sapone, quando vendono quelle saponette, che sono veramente eccessivamente grandi, e quando ci si lava, a volte scappano in mano, perché sono veramente improponibili, mmm buonissimo, che profumo ragazzi, non potete immaginare, questa volta sono belle, hanno un profumo particolare buonissimo, la consistenza ancora è morbida, ah burrosa di lei, mi piace anche il colore, perché è un colore proprio, color buro di cacao, ovviamente poi, potete farle anche della, del, posso dire, della forma che volete, questo già lo sapete, potete smussare gli angoli, i lati, a me piace lasciarli così al naturale, così come li faccio, anche perché, altro è, magari se li dovete regalare, o altro è, se li dovete tenere per voi, a me non interessa sinceramente molto la forma, l'importante è che sia venuto bene, questo è l'importante per me, e quindi, che dire, ragazzi, sono usciti proprio, mmm buonissimi, morbidi e profumati, come piacciono a me, questo è quanto ragazzi. Ora ragazzi, ultima raccomandazione, quando dovete poi lavare gli strumenti, ovviamente, lavateli sempre con i guanti, perché, perché il contatto con, se voi toccate ancora il sapone troppo fresco, comunque sia la soluzione liquida, quando la versate, ancora troppo fresca, vi secca completamente le mani, vi fa, vi arriccia, sapete, arriccia i polpastrelli, comunque sia, fa male, di conseguenza, lavateli sempre con i guanti, lasciate, quindi, le cose, quando dovete lavarle, gli strumenti che avete usato, e poi li sciacquate, ovviamente, con i guanti, e con un buono sgrassatore, insomma, normale, un sapone per i piatti, normalissimo, il sapone non potete, adesso, già usarlo, dove deve, comunque, stagionare, almeno, un mese e mezzo, due, questi sono i tempi di stagionatura, dopo un mese e mezzo, circa 50 giorni, potete già utilizzarlo, perché la soda, comunque sia, è sparita, è scomparsa, si è risolta, lentamente si risolve, e quindi, dopo un mese e mezzo, è già pronto per l'uso, e li potete conservare, io e i miei li ho conservati addirittura per due anni, quindi, figuriamoci, comunque li finirete prima, e questi saponi sono morbidi, schiumosi, veramente ottimi, se il video vi è piaciuto, lo so che sarà un po' lungo il video, però, potete andare sui giù, come volete, per quando arrivate al momento che volete stoppare, ovviamente, di conseguenza, io, detto questo, nulla, ho detto tutto, vi saluto, lasciate un like, se vi è interessato il video, se vi è piaciuto, alla prossima!